Se tutto andrà a buon fine, la prossima vendemmia, 18 comuni della sottozona di Casauri a tutti del Pescarese potranno vantare il riconoscimento di DOCG, denominazione di origine controllata e garantita dei propri vini di qualità, ad annunciarlo Concezio Marugli, presidente dell'Associazione Casauri. Superato il primo step, ora cosa accadrà? Adesso ci sarà la pubblica audizione, che è il secondo step per il riconoscimento della DOCG Casauri. Superato questo adempimento, ci sarà la riunione del Comitato Vini e se tutto va bene, la prossima vendemmia della sottozona Casauri potrà rivendicare la DOCG Casauri. Diciamo che i comuni interessati sono 18 e tutti del Pescarese. Sì, il territorio parte da Popoli e finisce a Manoppello, quindi tutta la Valle Casauria che prende il nome dalla famosa Abbazia di San Clemente a Casauria. Quando avete fatto la richiesta? La richiesta è stata fatta nel 2019 e adesso l'iter sta andando avanti e quindi siamo quasi a conclusione. Qual è la qualità di questi vini? Allora, innanzitutto sappiamo dalla storia che il Montepulciano d'Abruzzo si è diffuso nel territorio Casauria, quindi Torre dei Passeri in primis. È un vitigno che si è adattato moltissimo alla nostra valle e i vini che vengono fuori sono molto importanti, strutturati, di grande longevità e quindi meritano la DOCG assolutamente. C'è un'assemblea importante a cui parteciperanno tra l'altro i produttori? Quando? Il 25 gennaio ad Alanno, alle ore 16 e chiaramente tutti gli abruzzesi sono invitati perché è una cosa bella per l'Abruzzo. Finora sono due le DOCG in Abruzzo? Sì, abbiamo la Montepulciano d'Abruzzo, Colline Terramane e la Tullum. La Casauria diventerà la terza DOCG e ci auguriamo che arrivi anche la quarta con la sottozona Vestini. Non posso non farle questa domanda. La richiesta dell'Irlanda all'UE di porre sull'etichetta del vino qualcosa simile alle sigarette? Il vino è la bevanda più salutare al mondo. Chiaramente va bevuta con moderazione. Consiglierei all'Irlanda di fare più educazione alimentare e i risultati sarebbero sicuramente migliori. Perché questo poi si percuoterebbe anche in altri paesi? Divenderebbe un effetto domino. Quindi tutti i paesi prenderebbero la scia e sarebbe un danno enorme per l'economia agricola. Quindi pensiamo solo all'Italia che esporta diversi miliardi di euro di vino nel mondo e metterebbe a rischio un'intera categoria. Grazie. 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 Grazie.